Nuovo appuntamento dedicato alla rubrica nutrizione e benessere in compagnia del dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista che per questa settimana ci parlerà dei carciofi. Allora dottore, perché mangiare carciofi e quali le proprietà? Sì, allora, i carciofi sono degli ortaggi che troviamo di stagione proprio in questo periodo. Sono costituiti da un cuore centrale più carnoso e poi protetto dall'interno verso l'esterno da delle foglie che sono chiamate bratte, che però man mano che vanno verso l'esterno in effetti diventano più fibrosi, anche quindi meno commestibili. Ne esistono di tantissime varietà, alcune hanno le spine, altre senza, però è giusto citare anche il carciofo di Pestum IGP. Tra i valori nutrizionali sappiamo che i 100 grammi di carciofi apportano all'incirca 22 calorie. Sono ricchi di fibre, con pochi grassi, contengono sali minerali, quindi potassio, calcio, fosforo, ferro e vitamine, soprattutto vitamine del gruppo B e vitamine A. Quindi, diciamo, un alimento che sicuramente ha anche un indice glicemico medio-basso e ha la caratteristica tra le verdure, tra gli ortaggi, di avere, anche se di poco, una maggiore concentrazione di proteine rispetto ai carboidrati. È un po' un'anomalia, diciamo, nell'ambito dei vegetali. Le sue proprietà derivano da dei principi attivi, quali, tra tutti, la cinarina, che è un derivato dell'acido caffeico e che ha la capacità di stimolare la secrezione biliare, quindi con dei benefici su tutto l'apparato digestivo e sul fegato in particolare. Contiene anche inulina, che è un polisaccaride non metabolizzato dall'organismo e che permette di mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo LDL, quindi il colesterolo cattivo, ma soprattutto la glicemia. E per questo, diciamo, i carciofi sono particolarmente indicati per chi soffre di diabete. La grande ricchezza, poi, generale di fibre ne fa un ottimo alimento per contrastare la stitichezza, quindi facilitando il transito intestinale. E contiene anche molte molecole antiossidanti, tra cui uno in particolare l'acido clorogenico, che quindi ci aiuta a combattere i radicali liberi. Infine, l'ultima cosa, ha un effetto diuretico, detossificando in generale l'epato protettivo, soprattutto anche perché aumenta il metabolismo dell'etanolo e quindi facilita l'eliminazione dell'alcol. Ci sono anche controindicazioni dopo tante proprietà che ci ha elencato? Sì, allora, riguardano, nonostante appunto l'effetto benefico sul fegato, però sono controindicati per chi soffre di calcolosi delle vie biliari. È controindicato anche per chi soffre di diverticoli, proprio perché questa sua caratteristica di essere molto fibroso, per chi soffre anche di meteorismo, ed è controindicato per le donne in gravidanza o che allattano, questo perché inibisce un po' la secrezione lattea. Per quanto riguarda i metodi di cottura, ovviamente se è crudo mantiene intatte tutte le sue proprietà benefiche, quindi anche di protezione nei confronti del fegato. Cotto invece vanno un po' disperse, però quello che possiamo fare è conservare quell'acqua di cottura per riutilizzarla, per esempio, per dei brodi oppure per mantecare dei risotti. Grazie dottore, grazie anche ai nostri telespettatori. L'appuntamento con la rubrica nutrizione e benessere torna sempre la prossima settimana, solo su Cilento Channel.